Gentile Presidente del Senato, gentili Vice Presidenti del Senato e della Camera, Presidente della Regione Lazio, Signora Sindaco, cari Ministri, vi vedo numerosi qui presenti, autorità, tutte gentili ospiti. Ringrazio il Presidente Bonomi e tutti gli associati di Inconfindustria per questo invito, che offre anche a me l'occasione per condividere con voi alcune riflessioni sul particolare momento che stiamo vivendo e sulle prospettive future. Ovviamente siete già approvati da due interventi densi, di spunti, riflessioni e riconsiderazioni. Mi avvarrò anche e mi avvantaggerò delle considerazioni già formulate dal Ministro Patuanelli. però permettetemi innanzitutto di esprimere in modo chiaro e di rinnovare la solidarietà al Presidente di Confindustria Brescia, Giuseppe Passini, per il vile atto intimidatorio di cui è stato vittima la settimana scorsa e anche al Presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, che ne è stato vittima lo scorso giugno. Il nostro messaggio su questo punto deve essere forte, chiaro e univoco, perché si tratta di gesti inaccettabili che devono essere condannati e respinti con la massima fermezza, lavorando al contrario per costruire coesione, unità, senso di responsabilità comune all'interno dell'insostituibile cornice democratica della nostra Repubblica. Cosa ci insegna questa pandemia, questa situazione così drammatica che tutto il mondo sta vivendo? Quali lezioni possiamo trarre anche nella prospettiva futura per il coraggio che ci serve per il futuro da questa terribile esperienza? Sono ormai settimane che tutte le istituzioni internazionali più accreditate, a partire dall'HOMUS, le più autorevoli testate giornalistiche, New York Times, Financial Times, Bloomberg, Guardian, Suddeutsche Zeitung e tante altre, si stanno interrogando sulle ragioni per cui un Paese che negli ultimi lustri ha mostrato non poche difficoltà nella crescita economica, nel migliorare l'indice di produttività, che ha mostrato anche capacità nell'operare riforme strutturali che quasi tutto il mondo ci sta chiedendo, si sta invece rivelando proprio adesso, nel momento di estrema difficoltà, più efficace di molti altri, ben più resiliente nel reagire alla pandemia. E immagino molti di voi avrete delle risposte e sicuramente non c'è una sola risposta. Io ve ne offro una. Io ritengo che il nostro merito è di aver compreso da subito che non si può vincere una battaglia così impegnativa operando distinzioni tra tutela della salute e della vita dei cittadini da un lato, tutela dell'economia e della produzione dall'altra. Alcuni Paesi che hanno pensato di trascurare il primo valore, la tutela della persona, e quindi di concentrarsi sulla preservazione del tessuto produttivo, sono quelli che adesso denunciano maggiori difficoltà nel tenere sotto controllo la curva del contagio, che stanno pagando un prezzo molto elevato sul piano della recessione economica, ben più elevato sul piano della recessione economica. In Italia abbiamo afferrato da subito che sarebbe stato impossibile porsi il problema della preservazione del tessuto produttivo, trascurando la tutela delle persone e delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo abbiamo compreso molto chiaramente, direi plasticamente, quando ancora prima dell'adozione dei protocolli di sicurezza i lavoratori, ricordate, si sono rifiutati, si rifiutavano di entrare in fabbrica. Lo ricorderete, cari imprenditori, sono stati giorni molto difficili. I lavoratori non entravano nelle vostre fabbriche, non si sentivano tutelati, non si sentivano sicuri, non eravamo ancora a lockdown. Ed è per questo che subito convocamo tutte le parti sociali, le associazioni datoriali, anche voi, e devo ringraziare qui il Presidente Boccia perché ha dato una collaborazione incredibile, oltre che i sindacati, in modo da stendere, redigere e sottoscrivere quegli articolati, complicati, protocolli di sicurezza. Abbiamo afferrato un principio fondamentale. Non si può tutelare l'economia senza prima salvaguardare la salute, la sicurezza dei cittadini. Altro elemento fondamentale, come ha detto il Ministro Patanelli in conclusione del suo intervento, la fiducia. È fondamentale la fiducia. La fiducia tra governo e cittadini, ma anche tra imprenditori e lavoratori, tra sindacati e associazioni datoriali. Nell'impresa, anche, l'elemento della fiducia è fondamentale. Tutti coloro che sono coinvolti nelle iniziative economiche, nelle attività, pur nella diversità di ruoli e funzioni, devono sentirsi coinvolti verso il perseguimento di un obiettivo condiviso. E questa mattina, ricevendo la Presidente Svizzera, Son Maruga, ho voluto ricordare anche il sacrificio economico, compiuto da alcuni, molti imprenditori. Mi ha molto colpito che nel momento di massima ristrettezza economica, di grandissimo disagio finanziario, molti imprenditori abbiano, si siano sentiti nella condizione morale, non giuridica, di dover anticipare ai propri lavoratori, di tasca propria, la cassa integrazione, proprio nella consapevolezza di far parte di una medesima comunità in cui ci si salva tutti insieme. Questo stesso valore ci ha consentito di vivere, sperimentare il senso di appartenenza a una medesima comunità, di essere avvinti di un comune destino. E anche i cittadini hanno mostrato grande fiducia nei confronti delle istituzioni e del governo, comprendendo le scelte anche dolorose, rispettando le misure anche molto restrittive, non solo per il bene proprio, ma anche per tutelare le persone più care e più vulnerabili. Con lo stesso spirito di unità, con il rinnovato senso di comunità, quel senso che ci ha consentito come Paesi di affrontare a testa alta la minaccia della pandemia, dobbiamo ora contribuire, certo, tutti insieme, a vincere la sfida della ripartenza. E' una sfida questa che in verità è lì, ci attende da molti anni e mai come oggi. In ragione della profonda crisi si pone di fronte alla politica il dovere di affrontarla con coraggio. Però questo, questa volta ce la possiamo fare, perché questa pandemia ci ha reso anche tutti più forti e anche più consapevoli. Già prima dell'arrivo del Covid-19 il nostro Paese viveva e è stato ricordato. Un periodo di sostanziale stagnazione del prodotto interno lordo, della produttività. Sono varie e complesse le cause che hanno portato l'Italia ad accumulare questi ritardi cronici. Tra queste la ricerca economica ha evidenziato alcune importanti tendenze di fondo. In Italia abbiamo registrato una progressiva perdita della capacità di innovazione, misurata da una spesa in ricerca e sviluppo nettamente inferiore a quella della media dei Paesi Ocse. Abbiamo assistito a un disinvestimento nell'offerta di programmi didattici di ogni ordine e grado, nella formazione dei docenti, nella dotazione edilizia e tecnologica delle scuole. Il tutto è avvenuto in un contesto di amorfologia e sistema produttivo che in molti casi non consente un'adeguata crescita dimensionale delle imprese e pertanto frena la propensione a investire in nuove tecnologie ad aumentare la domanda di lavoratori qualificati. A queste dinamiche si è affiancata aggravandole un progressivo deterioramento della nostra capacità progettuale come sistema in Italia e in particolare delle competenze della pubblica amministrazione. A queste debolezze strutturali si è aggiunto poi l'impatto lo ricordiamo della doppia recessione i mutui subprime del 2009 e poi la crisi dei debiti sovrani del 2011 crisi che furono aggravate da scelte di politica economica compiute a livello europeo che hanno impedito all'Unione di compiere passi decisivi verso la creazione di istituzioni economiche autenticamente comunitarie. Le scelte compiute sono figlie di paradigmi canoni consolidati che pure già da alcuni anni mostravano un logoramento si mostravano inadeguati a cogliere mutamenti in atto non apparivano più in grado di intercettare i bisogni profondi della società. Ecco oggi l'Europa ha avuto la forza di rispondere diversamente allo shock della pandemia adottando un programma di investimenti che è stato anche ricordato. è un risultato che certo si deve anche alla capabilità dell'Italia alla determinazione di un governo di una squadra di governo che non si è mai accontentata di soluzioni parziali o anacronistiche e ha lavorato duramente perché si cambiasse passo. Il governo italiano infatti sin dalle prime settimane della diffusione della pandemia ha compreso subito la portata simmetrica di questo shock e per questo ha promosso con determinazione una nuova impostazione secondo la quale i destini sociali e economici dei Paesi membri dell'Unione Europea sono inestricabilmente connessi e soltanto un piano ambizioso lungimirante avrebbe potuto innescare una vera ripresa dell'economia europea la recovery and resilience facility come avevamo spiccato è fortemente incentrata sugli investimenti pubblici nei due ambiti fondamentali la transizione green e il digitale è su una forte spinta verso le riforme è quello che avevamo chiesto perché conosciamo la realtà del nostro Paese e gli esiti di questo negoziato europeo dimostrano che l'Italia ha saputo recuperare una forte leadership europea e internazionale grazie alla quale abbiamo affermato un principio molto semplice l'Europa e l'Italia potranno crescere soltanto se saranno in grado di cambiare insieme contemporaneamente negli stessi mesi che hanno preceduto quella famosa seduta del Consiglio europeo del luglio scorso il governo ha adottato numerose misure a sostegno del sistema sanitario nazionale dei lavoratori delle imprese per contrastare le ricadute economiche dell'emergenza sanitaria i quattro maggiori provvedimenti in materia economica l'ultimo dei quali il decreto agosto hanno permesso di garantire cospicui investimenti e la tenuta del sistema economico stanziando complessivamente la ragguardevole cifra di 100 miliardi in termini di indebitamento netto come sono state ripartite queste somme lo ricordiamo 39,5 miliardi a favore delle imprese grazie a contributi a fondo perduto alla cancellazione dell'ira alla sospensione di termini diversamente fiscali e altre agevolazioni fiscali agli interventi specifici per i settori più colpiti come il turismo altre misure relative al costo del lavoro sociale sono state dedicate a questi settori per circa 34,5 miliardi con 19 miliardi riservati alla cassa integrazione 8 miliardi per erogare le indennità ai lavoratori del settore privato autonomi stagionali ancora 12,5 miliardi sono stati necessari per gli enti territoriali per tutelare gli investimenti il trasporto pubblico locale la sanificazione degli ambienti ancora 8 miliardi per il sistema sanitario nazionale 2,5 miliardi per potenziare i servizi pubblici vedete questi numeri evidenziano come l'azione del governo abbia attivato una rete di protezione molto articolata nei confronti della nostra economia mettendo a disposizione risorse ingenti l'ampiezza di quest'azione di sostegno non è stata lo ricordo condivisa da tutti ma credo fermamente che questa abbia svolto un ruolo cruciale e vedete non soltanto per proteggere il nostro tessuto sociale ma anche per preservare la medesima efficienza produttiva delle imprese e ritengo che sia stato giusto mantenere in essere queste misure anche dopo la riapertura delle attività economiche e commerciali ognuno ognuno poi potrà e libero di valutare autonomamente se questa azione del governo è stata sia stata soddisfacente o meno ma sarebbe corretto riconoscere che questo governo è riuscito ad attenuare il pesante impatto economico dell'emergenza con una mobilitazione di risorse una moltiplicità di interventi che non hanno precedenti nella storia repubblicana i mesi che ci attendono sono un appuntamento cruciale per il riancio del paese nella prospettiva su cui anche gli interventi che mi hanno preceduto e hanno chiarito vogliamo una chiara demarcazione rispetto al passato un mutamento di passo e prospettiva la nostra visione del paese abbiamo testa cuore energia determinazione per affermarla è quella di un'Italia in grado di recuperare quella statura di grande potenza economica industriale raggiunta nella seconda metà del secolo scorso un'Italia capace di promuovere i meriti di tutti ma di prendersi cura dei bisogni di ciascuno che sappia valorizzare in tutto il mondo la qualità delle sue produzioni dei suoi talenti lavorando costantemente per superare i propri limiti è una visione che non può ignorare i profondi montamenti avvenuti nella società dell'economia negli ultimi due decenni perché il modello di sviluppo sin qui perseguito fondato sulla premessa che quanto più si fosse fatto prevalere l'obiettivo della crescita economica rispetto alla tutela della persona della comunità e dell'ambiente tanto più benessere avremmo potuto redistribuire la società è un modello evidentemente che non si è rivelato adeguato la continua instabilità della nostra traiettoria di crescita segnata da crisi ricorrenti l'emergere di nuovi protagonisti globali penso in particolare alla Cina hanno reso necessario un cambio di strategia e anche logorato quel patto sociale fondato su quell'ipotesi ragioniamo di una nuova società la nuova società post-covid dove la sostenibilità sociale ambientale dei processi produttivi non può essere più pensata come un vincolo allo sviluppo bensì come sua premessa imprescindibile saranno questi temi fondamentali al centro dell'agenda del prossimo G20 che lei Presidente Bonomi ha ricordato assieme a questioni cruciali come la tutela del multilateralismo della cooperazione internazionale e le ripercussioni della Brexit le tensioni geopolitiche nel Mediterraneo sarà questo un appuntamento molto importante per l'Italia che è all'onore della Presidenza e vorrei ricordare che l'anno prossimo avremo anche l'onore della co-presidenza di COP26 quindi anche lì avremo la possibilità di richiamare l'attenzione di tutte le future scelte di governo in tutte le ragioni del pianeta sui bisogni delle donne dei giovani sulla necessità di un patto intergenerazionale a cavallo tra la fine degli anni 90 all'inizio del 2000 la parola riforme lo ricorderete è stata associata a politiche di austerità spesso condivise dalle principali istituzioni economiche internazionali sempre volte a contenere la spesa sociale o a battere forme di protezione del posto di lavoro queste misure hanno avuto un costo sociale enorme e hanno ampliato i divari socio-economici esistenti le riforme di cui abbiamo bisogno oggi sono quelle che possono permetterci di porre da un lato la pubblica amministrazione nella condizione di riuscire a spendere miliardi di euro in investimenti materiali e materiali realmente prioritari e strategici e dall'altro di rendere l'ambiente normativo del nostro paese più favorevole alle imprese e agli investimenti privati quindi si tratta di coordinare tutti i livelli istituzionali dello Stato con l'obiettivo di spendere pienamente le risorse stanziate e quelle che verranno di semplificare il sistema degli appalti pubblici e già varie misure le abbiamo adottate col decreto semplificazioni di riformare profondamente la giustizia civile penale e anche quella tributaria di rendere più attrattivo il quadro normativo del paese sono queste le essenziali riforme lo dico tra virgolette abilitanti che faranno parte del nostro piano di ripresa e resilienza siamo perfettamente consapevoli che nessun piano di investimenti potrà conseguire i risultati sperati se non saremo in grado di riformare profondamente la pubblica amministrazione il nostro quadro normativo l'intero funzionamento della macchina dello Stato che ha rivelato tutte le sue difficoltà anche in questi mesi nell'attuazione delle misure che abbiamo predisposto in modo da beneficiare effettivamente cittadini imprese e investimenti a tal proposito completando il ragionamento che lei Presidente Bonomi ci espose lo scorso giugno in occasione dell'iniziativa Progettiamo il Rilancio non siamo affatto convinti le assicuro che ci sia uno Stato buono e un privato cattivo basta guardarsi attorno in Europa del resto per riconoscere come i migliori casi di successo industriale sono frutto di un'interazione collaborativa tra pubblico e privato pensiamo ad esempio allo sviluppo della strategia Industria 4.0 in Germania un paese che è leader in Europa e mondiale in questo ambito è una strategia che nacque da un dialogo fitto tra il Ministero dell'Economia e della Ricerca e imprese come Siemens Bosch SAP con lo scopo di realizzare una pervasiva digitalizzazione del tessuto industriale tedesco ecco anche in Italia abbiamo bisogno di raccogliere le energie migliori di creare una sinergia elaborare modelli simili e laddove già esistano di valorizzarli al massimo questa è l'occasione per costruire quindi questo nuovo patto pubblico privato senza il quale ogni sforzo del Paese risulterà vano un patto fondato l'abbiamo detto sulla fiducia che possa dar luce a un sistema di collaborazione di coinvestimento fra Stato e imprese italiane dobbiamo fare affidamento sulle più brillanti realtà impegnate in settori strategici per lo sviluppo sostenibile del Paese e da questo obiettivo vedete derivano molte delle iniziative dei progetti che stiamo pensando e che entreranno del piano di ripresa e resilienza il piano è un progetto per il Paese che non può assumere le caratteristiche di un classico stimolo che ne siano per dirla con gli economisti basato sull'aumento della domanda pubblica per investimenti proprio in virtù di quelle rigidità strutturali che impediscono una piena rapida trasformazione delle risorse stanziate in capitale fisico e infrastrutturale come è testimoniato dalla lentezza nella spesa dei fondi strutturali europei invece è un progetto trasformativo abbiamo bisogno di questo progetto trasformativo in grado di associare a un incremento certo della domanda pubblica in settori cruciali ad alto impatto di PIL penso alla digitalizzazione e alla sostenibilità ambientale e quindi una profonda riorganizzazione delle attività istruttorie di monitoraggio di controllo della spesa anche attraverso una piattaforma digitale alla quale tutti i cittadini potranno accedere in una logica di accountability pubblica per controllare direttamente lo stato di avanzamento delle opere l'ho già annunciato ci doteremo per il nostro piano di ripresa piano nazionale di uno strumento normativo ad hoc ne abbiamo bisogno non c'è altra strada una struttura normativa dedicata con norme specifiche soggetti attuatori dedicati che ci garantisca un monitoraggio trasparente e tempi di attuazione certi intendiamo innovare e rendere più efficiente la pubblica amministrazione dobbiamo lavorare molto per la riqualificazione del personale pubblico dobbiamo lavorare molto per mirare a nuove assunzioni non generiche ma che accrescano la competenza della pubblica amministrazione nel campo digitale penso alle discipline stem dobbiamo rafforzare i presidi di sicurezza informatica facilitare l'adozione delle nuove tecnologie nelle filiere produttive tramite un rilancio abbiamo sentito il ministro Patonelli della strategia transizione 4.0 colmare i divari appunto nelle competenze digitali garantire piena ed efficace connettività alle imprese e ai cittadini tramite il progetto della rete unica che abbiamo annunciato potenziare la competitività internazionale delle nostre realtà produttive e commerciali penso al patto per l'export nell'ambito della transizione ecologica alla quale il piano dovrà dedicare lo ricordo almeno per vincolo europeo il 37% delle risorse intendiamo attuare gli obiettivi del piano nazionale integrato energia e clima attraverso gli interventi di innovazione industriale agricola di produzione sostenibile di energia efficientamento energetico antisismico dobbiamo ancora lavorare alla mitigazione dei rischi geologici alla gestione del ciclo integrato delle acque e dei rifiuti conversione ecologica del trasporto pubblico riqualificazione urbana e del paesaggio un ampio capitolo poi lo dedicheremo al potenziamento della didattica lì dobbiamo investire tanto e bene nelle scuole di ogni ordine e grado al rafforzamento della formazione avanzata alla sua maggiore apertura al mondo produttivo a un corposo investimento ci dedicheremo nella ricerca con particolare attenzione alle sue applicazioni in tutte le filiere innovative che sono state anche richiamate non mancano inoltre i capitoli essenziali un progetto di riforma del nostro sistema di ammortizzatori sociali una strategia di valorizzazione dell'intermodalità logistica e di sviluppo anche dei nostri sistemi portuali e non solo sulla struttura del piano così come più in generale sull'intera strategia di rilancio che il governo intende porre in essere il governo non potrà che aprire le proprie porte ai contributi di tutti i settori produttivi del paese avremo successo solo se riusciremo a coinvolgere le migliori energie se questo diventerà un piano effettivamente nazionale partecipato da tutti in modo da condividere i medesimi obiettivi e da agire tutti di conseguenza il paese gioca la partita più importante di tutti gli ultimi decenni è una partita che non riguarda solo noi ne dobbiamo essere tutti consapevoli dobbiamo lavorare per le generazioni future consapevoli che quanto quelle generazioni potranno realizzare dipenderà inevitabilmente da quello che saremo in grado di costruire noi oggi di progettare oggi dal terreno che sapremo preparare per loro cresceremo poco e male se non punteremo a superare le diseguaglianze di genere le diseguaglianze generazionali quelle territoriali e vedete anche la misura del taglio del costo del denaro del 30% delle imprese che sono a sud è una misura che intendiamo strutturale perché è collegata ricollegata direttamente al gap infrastrutturale e delle differenti condizioni del sud rispetto al resto d'Italia è una misura di equità di riequilibrio che favorirà anche il nord che non potrà mai crescere in modo sostenuto se non crescerà insieme al sud e al resto dell'Italia allo stesso modo le generazioni future saranno in grado di crescere avanzare socialmente e tecnologicamente solo se troveranno il terreno fertile costruito da chi è venuto prima se potranno reggersi su quello che saremo in grado di preparare per loro abbiamo quindi una grande grandissima sfida non abbiamo alternative dobbiamo vincerla lo possiamo fare tutti insieme solo tutti insieme grazie